Dall'Aggiunta Stirati le chiediamo ovviamente dagli scranni dell'opposizione e della minoranza secondo lei lo stato di salute della maggioranza e della Giunta Stirati di questo governo a vita lunga, vita breve? Allora dai banchi delle minoranze c'è grande preoccupazione per quello che sta accadendo oggi nella Giunta siamo al secondo assessore che si dimette, la città è in attesa di capire questo percorso se può proseguire in questo momento io mi ritengo di poter dire che non ci sono le condizioni per proseguire con questa esperienza amministrativa Chiaramente sono segnali di uno stato di salute che non fa certamente pensare al meglio è chiaro che tutti si trinceano dietro ai motivi personali, fatto sta che è un'evidente manifestazione di un governo che sta arrancando fatica, sta soffrendo Noi peraltro di tutti gli assessori avevamo sempre richiesto le dimissioni di un altro assessore Ricordiamo, lo parlavamo dell'assessore Tasso, quella delega tra le altre cose anche alla gestione dei rifiuti Esattamente, proprio questo è il punto cruciale Sinceramente a me, ma posso dire anche a noi, più che del fantacalcio, sul fatto cronacistico o sul fatto personale o sulla frizione presunta o reale, interessa il progetto e il risultato che l'amministrazione può produrre per questa città Tirate dritto quindi? Ognuno per la sua direzione, sì, poi possiamo vedere dove e come si incontrano queste direzioni Le forze di maggioranza, secondo voi, stanno un po' venendo meno ad un impegno e ad una responsabilità presa nei confronti della città o sono immuni da quanto succede come responsabilità? No, sono assolutamente le forze di maggioranza che sono colpevoli di questa situazione della città di Gubbio e della maggioranza Erano state messe insieme tante forze disomogenee assolutamente e che con il tempo hanno fatto vedere tutte le loro diversità e sono sfociate in questi grossi problemi che si registra ormai da due mesi a questa parte La maggioranza è compatta, si lavora tutti quanti insieme, ci sono frizioni lo ribadito più di una volta, vediamo tutti quanti comunque le esperienze diverse i metodi, le idee forse qualche volta possono cozzare però alla fine riusciamo sempre a trovare la sintesi, a lavorare per il bene di questa città che ne ha tanto bisogno Io devo dire di aver tifato per la nuova stagione ero un tifoso perfino del sindaco attuale in carica ma la delusione è stata molto forte Secondo lei questo sindaco sta facendo buon viso a cattivo gioco o sta sottovalutando le difficoltà di tenuta reali? Io temo purtroppo che le stia sottovalutando Grazie 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 Grazie